Rosario Pergolizzi è il nuovo allenatore del Campobasso. Venerdì la presentazione ufficiale è la presenza del vicepresidente Nicola Cirringione. Pergolizzi prende il posto dell'esonerato Andrea Mosconi, sollevato dall'incarico dopo un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre gare. Via anche il direttore sportivo Pino De Filippis, che sarà sostituito da Sergio Filipponi, ex Perugia, un ribaltone maturato nelle ultime ore. Fino all'alba a Mosconi De Filippis erano state concesse tre partite per invertire la rotta. Poi la clamorosa decisione di smantellare lo staff tecnico e di puntare con decisione sull'ex difensore che nel 2019-2020 ha portato il Palermo in Lega Pro. Pergolizzi da calciatore ha indossato le maglie di Ascoli, Palermo, Napoli, Regina, Bologna, Brescia, Padova e Ravenna. Inizia ad allenare invece nel 2002-2003 sulla panchina dell'Ascoli come vice di Pilon, poi in C2 all'Olbia, primo allenatore e primo esonero. Non molto fortunate neanche le esperienze con Pavia ed Ascoli, mentre in Sicilia trova la sua consacrazione, vincendo l'Incellenza con il Marsala e la D con il Palermo. Grazie. 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 Grazie.